Ben trovati, siamo al primo appuntamento con la nostra informazione giovedì 7 febbraio, in regia c'è Lucio Felicità. Si arroventa la campagna elettorale, ma a 15 giorni dal voto le proposte concrete per lo sviluppo e l'occupazione sono carenti. Sentiamo in a proposito Giovanni Minicozzi. La campagna elettorale è entrata nel vivo, anzi tra poco più di due settimane si andrà alle urne. A dire il vero però, finora si è visto tanto fumo e poco arrosto, solo polemiche, colpi bassi e veleni. Insomma, tutti contro tutti. Si è parlato molto di ricorsi elettorali, liste pulite, conflitto di interessi, tradimenti e poco di proposte e progetti per uscire dalla crisi che spinge sempre più famiglie nel baratro della povertà. La grave crisi economica, invece, richiederebbe una sinergia tra gli eletti delle diverse coalizioni in Regione e quelli al Parlamento, al di là delle specifiche collocazioni politiche. Forse questo in piena campagna elettorale è pressoché impossibile, ma è pur vero che l'attuale litigiosità politica sta creando le premesse per una contrapposizione duratura che non farà bene al Molise. Nei giorni scorsi però una buona notizia l'ha data il segretario del PDL Angelino Alfano. In caso di elezione Silvio Berlusconi ha detto che questa volta non sceglierà il collegio del Molise, ma lo scederà a Ulisse Di Giacomo. Ulisse ha illustrato la propria terra ed il Senato della Repubblica con grande competenza, con correttezza e con lealtà. In una stagione politica in cui tanti hanno avuto come demerito quello della transumanza, lui è stato coerente, leale e corretto con il progetto del Popolo della Libertà, si è battuto in Senato per tenere vivo e forte il nostro governo, il governo Berlusconi e questa è la ragione per la quale tornerà in Senato. Ci sono delle campagne pubblicitarie tendenti a dire che con il gioco delle opzioni Ulisse Di Giacomo non sarà senatore, io sono qua a dire il contrario, cioè che questa terra avrà il proprio senatore in Ulisse Di Giacomo. Dunque al Parlamento andranno cinque mulisani, tre deputati e due senatori. E a proposito di campagna elettorale, il candidato del centrosinistra Paolo Di Laura Frattura sarà questa sera al Castello Pignatelli di Monteroduni alle 21 per un incontro con gli elettori. Interverranno anche Danilo Leva, Roberto Ruta, Maria Antonietta Conti, Massimiliano Scarabeo, Agata, Midea e Carlo Veneziale. E siamo alla cronaca perquisizioni anche ai Sernia da parte della Guardia di Finanza, oltre che a Milano e Roma, nell'ambito delle indagini nei confronti di Onofrio Amoruso Battista, ex consigliere regionale della Lombardia, agli arresti domiciliari per una vicenda di tangenti. Secondo la procura meneghina sarebbe stata pagata una mazzetta da 2 milioni di euro per favorire la richiesta di un finanziamento avanzata dalla Banca Popolare di Milano. Non è ancora chiaro il motivo della visita delle fiamme gialle ai Sernia, dove forse è coinvolto un imprenditore del posto, del quale per il momento non è noto il nome. Una buona e una cattiva notizia per quel che riguarda l'ambiente in provincia di Sernia, in particolare a Venafro. La notizia buona è che la provincia, con un suo comunicato, ha reso noto che non si farà più la centrale Turbogas. La novità cattiva è che Venafro, a livello di polveri sottili diffuse nell'aria, ha un record nazionale. Sentiamo tutto da Enzo Di Gaetano. L'ultimo monitoraggio delle polveri sottili, PM10, diffuse nell'aria di Venafro è d'allarme rosso. La loro quantità è addirittura superiore al PM10 presente in aria a Roma, Milano e Torino. Lo fa sapere il Comitato delle Mamme per la Salute di Venafro, che chiede misure adeguate contro il grave pericolo di insorgenza di tumori alle vie respiratorie causati dalle polveri sottili. Intanto però c'è anche una buona notizia. è stata definitivamente archiviata la Turbogas di Venafro, con la rinuncia della ditta paltatrice a proseguire l'iter approvativo. È così definitivamente archiviata la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 780 MW prevista nel comune venafrano. Il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare, pur avendo in precedenza espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale con proprio decreto, in seguito al ricorso vinto al Tarlazio dalla provincia di Serbia, ha annullato la sua decisione. Una grande vittoria per Viabberta e per quanti si sono opposti alla realizzazione di un'opera che avrebbe aggravato l'ambiente dell'area venafrana, già oggetto di tante polemiche. La provincia di Sernia ribadisce altresì che analoga posizione ha assunto per quanto riguarda la paventata realizzazione di una centrale similare nel comune di Presenzano, che per la diacenza alla provincia di Sernia può costituire fonte di inquinamento. Infine, il settore Ambiente ed Energia fa anche sapere che ha la firma una convenzione con la Società Italiana di Medicina Generale di Firenze che effettuerà nell'area venafrana il monitoraggio delle polveri sottili, in particolare PM10. Tale indagine indipendente si unisce ad altre già effettuate dall'ARPA Molise nel territorio e a quelle svolte da altri soggetti, quali la stessa provincia di Serbia, in collaborazione con la Regione Molise, le Università del Molise, Cassino, Roma e altri partner nel territorio venafrano. La Camera di Commercio di Campobasso premierà oggi i vincitori del sedicesimo concorso Fedeltà al lavoro e progresso economico. Un'occasione dunque per celebrare il valore del lavoro e l'impegno professionale. L'appuntamento con la cerimonia di premiazione è alle 10.30 all'auditorium ex GIL di Campobasso. E per il momento è tutto, con la nostra informazione adesso la rassegna stampa. Iniziamo con il giornale del Molise.it. In evidenza, come potete vedere, c'è l'economia. Stretta creditizia delle banche sulle imprese. Il Molise anche in questo caso si conferma maglia nera. Con quasi il 7% il Molise è la regione in cui la stretta creditizia delle banche è più pesante. Dietro ci sono Sardegna, Calabria e Umbria. Una situazione, scrive Michele Mignogna che firma il pezzo, che secondo uno studio della CGA di Mestre mette a rischio l'80% delle imprese sul territorio, notoriamente formato da piccole e medie imprese. Spesso a gestione familiare, con un discreto numero di dipendenti. Soprattutto se saranno confermate le stime degli organismi europei che vedono acquirsi la crisi economica in corso. Una situazione grave che però non rientra nell'agenda politica di questa campagna elettorale, conclude Mignogna. Andiamo a vedere anche gli altri pezzi. Venafro, allarme inquinamento. Abbiamo visto l'ultimo monitoraggio delle polveri sottili PM10 diffuse nell'aria, ed allarme rosso. Poi approvata la legge sugli alberi monumentali, i comuni devono fare il catastro. Sulla destra, l'odissea della Fondovalle Rivolo, verso la fine. A giugno, l'apertura della strada. Andiamo a vedere le altre notizie, sempre dalla regione. Protesta contro l'isola ecologica di Brino. Siamo a Termoli, avanti con i lavori. E poi le elezioni di Giacomo, coordinatore del PDL. Le dubbi sulla decisione del TAR. Ancora, teatro al fulvio di Guglionesi, va di scena il Macbeth. E come possiamo vedere ancora, le notizie dall'Italia e dal mondo completano la pagina del giornale del Molise.it. Andiamo sul primo piano Molise. L'apertura dedicata alle elezioni. Il PDL al Consiglio di Stato, ultima spiaggia. presentano ricorso per la riammissione alle regionali, anche gli otto candidati di noi per il Molise. Intanto questa mattina in tribunale sarà sorteggiato l'ordine dei simboli sulle schede. Vediamo anche le altre notizie. Siamo garantisti, ma qualcosa non quadra. A parlare il senatore di Giacomo del PDL, forse è troppo difficile batterci sul campo, si chiede. Il TAR però precisa. Non potevamo disapplicare la legge. Andiamo avanti. Si parla anche dei fratelli d'Italia. Di Sandro e Vitagliano spengono le polemiche. Saremo la novità di queste elezioni. Ancora costruire democrazia. Ferocino lascia il Movimento di Romano. Andiamo a centropagina. Dai Serni a spacciatore preso mentre butta la droga in un bagno pubblico. da Guglionesi invece riscuotono 7 mila euro alle poste. Coppia di anziani ipnotizzata e derubata. Ancora cronaca. Operaia morta restituita la salma alla famiglia. Domani a Boiano l'ultimo saluto della donna morta. A seguito probabilmente di un infortunio sul lavoro. E ancora il blitz. Vediamo in questo box. Inchiesta BPM perquisita un'azienda. A disegna l'avete sentito anche nel nostro notiziario. Adesso lo sport. Lega Pro Campobasso per la salvezza necessaria. Necessarie 7 vittorie. Le gare interne, aggiunge il primo piano, sono 6. Per la Serie D Bartolini analizza la crisi del Termoli. E parla di un calo fisico. Campionato regionale di eccellenza. Slitta ancora il recupero tra Cerrese e Sessano. Chiudiamo il primo piano per andare a vedere la prima del quotidiano. Il presidente Iorio all'attacco. Con noi garantita la rivoluzione. Il governatore si lura agli avversari. Le loro liste, dice, sono fondate sul tradimento. Sua sinistra c'è la rubrica teatrino elettorale di Enzo Di Gaetano. Mentre, sempre per la politica, Italiano e Di Sandro rilanciano il centrodestra di Fratelli d'Italia. Andiamo nelle notizie sotto la testata. Cronaca, tangenti a Milano, c'è anche un isernino perquisizioni della Guardia di Finanza in Molise. Da guglionesi anche qui ritirano la pensione, ma vengono ipnotizzati e derubati. Estorsioni disposto. L'incidente probatorio si parla dell'operazione Sei Torri della squadra mobile di Campobasso. Fine da Venafro. Turbogas addio. La centrale non si farà. Anche qui lo sport. Lega Pro Lupi si attende l'incontro tra Capone e il sindaco di Bartolomeo per la Serie D. Termoli, Giacomarro, ha la ricetta per ripartire in fretta. Uno sguardo anche al campionato di promozione. Riccia, esonorato, l'allenatore Franco Longo. Dal quotidiano ai fatti, Michele Iorio alza il tiro e ora inquadra gli avversari. C'è la politica, come possiamo vedere anche qui. Fratelli d'Italia, Vitagliano e Di Sandro. Attenti, saremo la vera novità. Arrivi e partenze. Ferrocino lascia Massimo Romano. Poi c'è una notizia che riguarda la gestione del canile comunale di Campobasso. Assolto il dirigente De Marco. Torniamo alle notizie che riguardano la politica. Berlusconi e Monti ci hanno messo in ginocchio a parlare in Agni dell'Italia dei valori. E poi Termoli, l'isola ecologica non piace davanti alla stazione. Avete visto anche ieri le proteste. Mentre da Venafro, Turbogas, la provincia assicura che non si farà. Ora siamo sul tempo. Imprenditore di Sernia nell'inchiesta sulla BPM. La Guardia di Finanza sequestra documenti in città. Indagine su tangenti e legami con la criminalità organizzata. Poi ancora bufera sulla sanità. Si spende per i farmaci scaduti ma si taglia sul personale. Andiamo a fondo pagina. La centrale elettrica di Venafro. Abbiamo visto che non si farà. La ditta rinuncia al progetto dopo che il Tar Lazio ha annulato l'autorizzazione del Ministero. Vediamo anche sulla pagina di Termoli. Le isole ecologiche in centro la rivolta dei commercianti. Il sindaco di Brino punta i piedi e dice non si torna indietro. Intanto telecamere vigili contro i furbetti dei rifiuti. Ancora notizia. Al teatro Fulvio è di scena la compagnia delle opere e siamo a Guglionesi. Infine il sannio. Elezioni regionali. Miniscalco resta fuori. Siamo a notizia da Palazzo Spada. Ieri la discussione per riammettere nell'estrino di frattura il segretario socialista. A destra notizia della centrale termoelettrica di Venafro. E a centro pagina Isernia Castel di Sangro. Via Libera all'8.0. La giunta regionale ha approvato la delibera che permetterà la realizzazione dell'opera. La bretella di 5,5 km unirà pesche a Miranda. Riducendo il traffico di auto e mezzi pesanti in città. E' uno sguardo anche alle altre notizie. Siamo nella parte bassa. Borghi d'Eccellenza si unisce anche il comune di Boiano. Il comune Matesino dunque ha espresso la volontà di far parte del progetto sulla via francigena. Abbiamo terminato con i quotidiani regionali. Adesso passiamo ai nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Eccolo qui. E c'è il monito di Napolitano sulle carceri. In gioco l'onore dell'Italia. Il capo dello Stato a San Vittore tra i detenuti. Sferzata contro le correnti al CSM. Dunque bacchettata anche al CSM. In alto notizia che arriva dagli esteri ucciso il leader dell'opposizione Tunisia nel caos. E poi la politica interna tra Monti e Bersani. Nuovo duello sul ruolo di Vendola. La prima del tempo. Non toccate il polo a Bersani. Dunque alleanza difficile scrive il quotidiano romano. Monti lancia la sfida. Collaborazione ma riveda la sua coalizione. Vendola dice siamo inconciliabili. Il segretario PD con Nichi c'è un patto. Si parte da lì. Poi all'Italia indagata per frode. Il riferimento all'aereo fuori pista a Fiumicino. La truffa nei biglietti venduti. La prima di avvenire in carcere. Costituzione tradita. E' una frase del capo dello Stato a San Vittore. Dunque prima visita di un Presidente della Repubblica. La denuncia delle piaghe del sistema. Sovraffollamento, degrado e mancata attuazione della funzione rieducativa della pena. Possiamo adesso andare sull'unità. Monti non ci provare, scrive il giornale. Il Premier, Bersani, scelga tra i suoi. Il leader del PD, la nostra coalizione, dice non si divide. Poi c'è una notizia che arriva dalla Tunisia. Mentre più giù, Montepaschi, sequestrati 40 milioni, scudati. Prima di Libero, vediamo l'arma finale di Silvio. Si parla della vera mossa shock. Nei prossimi giorni, scrive il giornale diretto da Maurizio Belpietro, Berlusconi potrebbe proporre di pagare i debiti dello Stato verso le imprese con l'emissione di bond. Un'iniezione di 90 miliardi garantiti dal patrimonio della Cassa Depositi e Prestiti in grado di rimettere in moto la nostra economia. Poi c'è questa vignetta, questa caricatura sceneggiata a Bersani. Non toccatemi il polo. Passiamo adesso alla prima della Gazzetta del Mezzogiorno. Vendola tra Monti e Bersani. Out-out del primo ministro. Il leader PD, Sel Resta. Niki, replica. Michael, professore. D'Alema intanto interviene. La nostra apertura al centro precede la salita del Premier. Andiamo avanti con i giornali che abbiamo informato elettronico. Siamo sul manifesto Tunisi di sangue. La Tunisia precipita, barricate nella capitale, rivolta in tutte le principali città dopo l'assassinio di Belaide, segretario dei Patrioti Democratici Uniti. Il mattino di Napoli. Eccolo qui. Apri con una notizia legata all'economia. La campagna, redditi. La campagna è ultima. Solo 2.500 euro contro una media di 18.000. Tra Nord e Mezzogiorno un divario del 33%. Poi sulla destra, Monti Bersani, lite su vendola per le alleanze. Andiamo a centropagina. Una notizia di giudiziaria. Non uccise i genitori. Scarcerato grazie alla prova delle mosche. La sentenza, torre del greco. Un anno e mezzo in carcere. Chiaramente l'approfondimento sulle pagine interne. Infine De Magistris. La camorra dietro lo stop dei bus. Andiamo adesso a vedere Repubblica. Che abbiamo in cartaceo, come anche gli altri quotidiani. Montepaschi, sequestrati 40 milioni. L'ex direttore generale Vigni, interrogato per otto ore. Il CDA, la banca, ha liquidità. Anche qui la notizia che arrivano dagli esteri. E poi la politica interna. Messaggero D'Alema con Monti e la sinistra. Intervista all'ex premier. Il professore deve capire che la bussola sarà l'equità sociale. Vediamo anche la stampa. In alto lavoro, scuola figli. I leader rispondono alle sfide dei giovani. Poi la notizia che riguarda Montepaschi. La finanza sequestra 40 milioni ai vecchi manager. Il giornale Bersani-Monti-Vendola è già pollaio. Poi l'approfondimento. Il fondo di Sallusti. Grande idee. E piccoli Oscar della stupidità. Il Sole 24 Ore. Montepaschi via alle svalutazioni. Intanto Mussari e Vigni indagati. Falso in prospetto. E manipolazioni del mercato. Il Consiglio ha iscritto a bilancio. Perdite per 730 milioni. La Gazzetta dello Sport. Ieri sera l'amichevole tra l'Italia e l'Olanda. L'Italia che verrà. All'Amsterdam Arena. Gli azzurri giocano male. Ma finisce 1-1. Grazie appunto a un gol di Verratti. Il vice Pirlo che acciuffa l'Olanda. Al 92esimo. Poi ci sono anche le altre notizie. Che riguardano ancora appuntamenti amichevoli delle nazionali. Bene. Come sempre con lo sport. Terminiamo l'appuntamento del mattino. Grazie per averci seguito. Vi auguro una buona giornata. Vi ricordo il TG alle 14 con tutte le ultime notizie. Arrivederci.